Ciao a tutti amici, benvenuti nel mio canale, io sono Moira e oggi siamo su SimCity, una piccola premessa prima di iniziare, ho deciso di accorciare un po' i video di SimCity, nel senso che mi sono resa conto che effettivamente un video di 40 minuti dopo un po' può diventare un po' pesante, quindi ho deciso che io registro comunque il video sui 40-45 minuti, però poi lo divido in 2 o 3 video, così avremo 2 o 3 video da un quarto d'ora, 20 minuti l'uno, e anche perché così alla settimana invece di avere un unico video di SimCity potranno esserci ne due o tre, ecco soltanto questa cosa, quindi non preoccupatevi se questo video e quelli in futuro finiranno magari finché sto parlando, finché sto facendo qualcosa, perché tanto quella cosa la riprenderò subito nel video dopo, perché è lo stesso video solo che diviso in due o tre parti, ecco, solo questa piccola cosa volevo dire e adesso possiamo iniziare. Allora, dunque, dunque, l'ultima volta, eccola, avevamo scoperto questa parte di città che non avevo visto, quindi io direi di collegarci subito una bella strada qui, qui non penso che ci passi, però magari dopo proviamo, e di collocare l'aeroporto qua in cima, in modo da avere lo spazio qui sotto per mettere tutti i casinò, quindi avviciniamoci qui, e adesso vediamo un po' come fare la strada, magari possiamo anche forse farla venire su da qua, intanto sentite gli aerei che partono, prendiamo questa, intanto una strada, prendiamo questa e andiamo su, ok, fino a qua ci arriva, adesso, ok, perfetto, adesso vediamo se va su di qua, ma non così, ok, ci arriva, e adesso? ci arriva così, vediamo un attimo, se io faccio così, ok, perfetta, ci abbiamo fatto, c'è soltanto un paio di punti qua che non mi piacciono, tipo questo, quindi togliamo via questo, e anche questa, e rifacciamo un attimo questo punto, adesso non ci sto più, aiuto, perché non ci stai? ci stavi prima, no, rifacciamo, ok, però non vedo come viene, basso qui, ok, se io provo un po' così, no, così non, così, ok, va bene, viene fuori sempre, così, io purtroppo non c'è niente da fare, non c'è niente, viene sempre fuori, e allora togliamogli a questo, ok, adesso dovrebbe venire forse un po' meglio di prima, no? così, ok, dai, mi va bene, ok, e ci siamo arrivati fino qua in cima, bene, bene, quindi adesso l'aeroporto, non mi ricordo più, ah, deve avere di qua, quindi io direi che però potremmo fare la strada qui, quindi, portiamo dritta questa, e adesso su questa, tagliamo giù anche di qua, tagliamo giù di qua, adesso facciamo la curva, così, speriamo ci sia l'aeroporto, ma sì, dovrebbe starci, ok, e adesso? Aeroporto, eccolo qui, ci abbiamo i soldi? Sì, ci abbiamo, ok, dove lo mettiamo? Allora, allora, o qua? Io direi anche qua, ecco fatto, e quindi lo eliminiamo da qua, un turista in attesa, eh, mi spiace, ma devo eliminarti, quindi, sì, mamma mia, mamma mia, che casino che abbiamo fatto, mamma mia, ok, 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 siamo a posto, e adesso qui ci metteremo un altro paio di casino, intanto qua in cima, cosa possiamo metterci? Io quasi qua ci metterei ancora negozi, qui ce ne stanno pochi, e l'amagallato che qua non ci sta niente, chiudiamo la strada, un po' di più, non ci sta, non ci sta, ci sta, va bene, ok, e mettiamo sempre negozi, ok, magari chiudiamo anche questa, ok, anche se non c'è una richiesta molto alta di negozi, però i negozi portano turisti, quindi, e anche perché tra i negozi non ci sono solo negozi commerciali, diciamo, ma ci sono anche gli alberghi, quindi quelli servono, ok, qua siamo a posto, vediamo se per caso, ma dubito, insati, neanche alzando, no, invece un'altra cosa che volevo fare, io però, no, non so se ci sta, aspettate che intanto aggiungo, ok, è quella di portare una strada da qui, farla spuntare qui, perché siccome per andare nell'area industriale c'è soltanto questa stradina qua, e vedete che il traffico, insomma, ce n'è abbastanza, avevo pensato di fare una mega galleria che passa tutto sotto la montagna e sbuca fuori qua, quindi vi direi di provarci, magari dopo non viene neanche, però proviamo, quindi, però forse, ok, no, dai, stava venendo, dunque, il problema dov'è? Oh, wow, viene, viene, sta venendo, così no, così ci sta, così no, e dai, così, ok, perfetta, è venuta fuori perfetta, bene, così ora abbiamo un nuovo collegamento, una mega galleria che attraversa tutta la montagna, ok, bene, poi, 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 scusate un attimo, mi fermo un attimo che ho visto una cosa, scusate, ok, eccomi qua, scusate ma avevo lasciato il telefono acceso, adesso lo aspetto, dunque, dicevamo, il casino, ah, a proposito, avevo visto una cosa, eccoli qua, c'è stato l'ultimo, l'ultimo aggiornamento, il numero 9, che ha aggiunto queste cose qui, delle attrazioni, quindi io direi anche di metterli, perché portano turisti, sì, sì, ne metteremo un paio, intanto, di casino abbiamo messo i due piccoli, quello, quello fan da scienza, insomma, turistico, e abbiamo il casino raffinato, il casino della fortuna, e quello di lei Dante, io direi di andare con calma e fare intanto quello raffinato, questo, cioè volendo ci sta anche qua, e quasi quasi lo metterei qua, questi ci stanno qua, questo sì, ci sta benissimo, e anche questo, beh, anche questo ci sta volendo, però questo è più piccolo, cosa possiamo mettere qua, ma sì, dai, mettiamo questo intanto, mettiamo questo qui, magari centrale, così, ok, e lo miglioriamo già, allora, vediamo un po', c'è, camere raffinate, camere raffinate, attico, mettiamo subito delle camere, io farei così, aspettate, queste ci stanno qua dietro, sì, e questo sì, ok, poi, io ne aggiungerei, oh, ci sta così, io metterei questa così, e questa così, perfetto, e poi, uno di questi, ah, vedete, qua non ci sta, ma questo sì, quindi questo per forza qui, e questo per forza qui, tanto mettiamo anche il cartello, ok, io direi che questo è a posto, adesso è chiuso, no, è aperto, chiuso, chiuso, ma stiamo già perdendo, anche se è chiuso, comunque non importa, qui c'era qualcos'altro da fare, allora, come stanze le abbiamo già messe, questo l'abbiamo già messo, no, no, qua al momento siamo a posto, va bene così, qua è ancora chiuso, forse dovrei provare ad aggiungere anche un po' di popolazione, comunque, e qua ci mettiamo un altro casino, quindi abbiamo messo questo, mettiamo questo, allora, questo come ci sta? questo sarebbe meglio lì, quindi questo lo mettiamo qua, lo mettiamo così, e qua abbiamo sempre le camere, l'acqua, la sala, concerti, sala, baccarà, quindi, che differenza c'è? ah, pian terreno, il primo piano, questa sta di qua, o di qua, oddio, questo è enorme, e allora questo dobbiamo metterlo per forza qui, si costa anche parecchio, allora, questo qui, questa la mettiamo qui, quindi, io direi uno qui, uno così, e uno così, e poi, il cartello, c'è questo, oppure questo, però, andrebbe lì, o anche qua, ah, ma sì, dai, mi piace, bene, bene, e così qua, queste qua sono case, o sono, no, sono case, qua mi dice carenza lavoratori, quindi, dunque, allora, magari, dato che abbiamo un sacco di negozi qui, e anche sopra, quest'area qua, farla tutta residenziale, proprio tutta, quindi, via queste zone, e allora, Grazie a tutti.